Assessore Peroni, anche questi programmi di cooperazione internazionale confermano la centralità geostrategica del Friuli Venezia Giulia? Certo, la nostra regione ha una missione, direi che le deriva proprio da questa posizione geostrategica e storica. La missione è di assolvere un obiettivo cruciale per la nostra Unione Europea, quella cioè di favorire la coesione tra paesi, popolazioni, cittadini, imprese che vivendo ancora in ordinamenti non del tutto integrati hanno tuttavia problemi comuni e necessitano di affrontare questi problemi in una logica di area vasta. E appunto il Friuli Venezia Giulia è terra per sua posizione e anche per sua tradizione di crocevia, di culture, di popoli, di lingue e da questo punto di vista ha una predisposizione, direi, innata nel suo DNA questa funzione di integrazione e di cerniera tra diverse realtà di paesi e di popoli. C'è una proiezione quasi specifica del Friuli Venezia Giulia nell'area balcanica e questi programmi guardano molto a questa parte d'Europa. Ma non c'è dubbio che l'area di elezione, per tutte le suggestioni storiche che ci vengono in mente, anche di storia recente, è quella. Devo però anche ricordare che abbiamo un occhio ben puntato sul Mediterraneo perché la nostra è una regione anche di grande tradizione marittima, emporiale, commerciale, legata alle strade del mare e quindi siamo chiamati alla dimensione centro-europea, siamo chiamati alla dimensione alpina, siamo anche chiamati alla dimensione mediterranea. Ecco appunto declinato in tre, per così dire, rotte, la nostra vocazione, come dicevo prima, centrale dal punto di vista dell'integrazione europea. E tutto questo porta a dire che per il Friuli Venezia Giulia gli assi viari di trasporto e di collegamento restano fondamentali. Andiamo sempre a parare a questo tema, naturalmente. La infrastrutturazione di una terra di incrocio come è quella del Friuli Venezia Giulia è vitale proprio per poter assolvere quella missione che ricordavo prima.